In occasione del cinquecentesimo anniversario della morte dell'editore, stampatore e umanista Aldo Manuzio, il Consiglio regionale ha promosso, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, la ristampa anastatica dell'opera Ipnerotomachia Polifili, edita nel 1499. Il volume, presentato il 17 maggio al Salone del Libro, è considerato per il ricco apparato xilografico, uno dei più bei libri di ogni tempo. Il libro Ipnerotomachia Polifili è un libro che è stato importante nella storia, un libro molto studiato attraverso i secoli sin dalle prime indagini settecentesche di Apostolo Zeno e che ha continuato poi ad avere fortuna al punto che nel Novecento ci sono state ben tre ristampe anastatiche negli anni Sessanta, una ancora alla fine degli anni Novanta, per giungere a questa, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte. Il libro continua ad avere la sua importanza sia per l'apparato importante iconografico che presenta, sia per la storia che è una storia di sogno, romanzata, ma che si svolge su diversi piani poetici e che rappresenta uno dei più bei libri di tutti i tempi, soprattutto appunto per l'apparato iconografico.